Sono Francesca Geri di Outek, noi siamo un'azienda di automazione, operiamo specialmente nel settore calzaturiero e automotive. Realizziamo impianti customizzati per i nostri clienti e realizziamo internamente sia la fase di progettazione, di realizzazione e di installazione. Le nostre applicazioni sono piuttosto di nicchia e questo ci consente di poter esportare i nostri prodotti in tutto il mondo. Quest'anno abbiamo presentato una novità al MaxPay, soprattutto come settore di applicazione, che è quello della pelletteria. È un'isola per l'incollaggio, pelle e l'applicazione di particolari in seta. L'utilizzo di un robot Yaskawa ci consente di seguire un profilo preciso, con velocità costante, che è fondamentale nell'applicazione della colla. Oltre all'isola abbiamo presentato anche una linea che fornisce non solo la funzione di dare autonomia produttiva alla macchina, ma è anche un sistema di trasporto automatizzato e programmato che può collegare più isole di incollaggio oppure più postazioni di lavoro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.